Quest'anno in particolare, nonostante il maltempo, tanta gente è venuta, tanti ragazzi, atleti soprattutto si sono cimentati in questa manifestazione che ricordo è amatoriale ma che di fatto racchiude un po' tutta la stagione, tutto l'anno agonistico dei vari atleti e soprattutto è anche una bella manifestazione perché esprime un grandissimo senso di appartenenza fra tutti quelli che fanno parte nello sardinario mondo della federazione.